Un invito valido per due persone a trascorrere del tempo con Georgia e Mike Clooney nella loro lussuosa villa all'aglio sul lago di Como. È lo stesso attore a lanciare la proposta a cui si può partecipare online. Il pacchetto comprende un pasto a base di prodotti tipici mentre si possono scattare foto con la coppia famosa. Pane, salumi, formaggio e prosecco italiano, splendida vista sul lago e le Alpi e naturalmente un volo per l'Italia e sistemazione in hotel 4 stelle. Un concorso di beneficenza fatto attraverso la piattaforma Omaze allo scopo di raccogliere fondi per la Clooney Foundation for Justice, con cui i Clooney si battono contro la violazione dei diritti umani in tutto il mondo. George ironizza sulla sua popolarità offuscata dalla moglie. Ciao, sono George Clooney e sono qui per invitarti in Italia insieme a mia moglie. Poi il regista lo ferma dicendogli di attenersi alle battute e ricominciare e lui legge il testo corretto. Ciao, sono il marito di Amal Clooney, George, e vogliamo invitarvi con noi sul lago di Como. Il regista gli conferma che la gente ama Amal, è lei il punto di forza e a quel punto Clooney va avanti. Immaginate voi e Amal con un calice di vino che parlate di attualità, mentre io, suo marito, mi servo il pranzo in silenzio. Ma davvero, a questo punto diciamo direttamente che ci sarà solo Amal senza di me. Una fantastica idea, replica il regista. E allora George, io scherzavo. Finendo per elencare a ruota libera il fatto di essere stato considerato tra i più sexy del pianeta, i suoi vari ruoli al cinema e il fatto di essere amico di Brad Pitt e di poter dare il suo numero e tanto altro. Poi torna serio e lancia l'appello. Andate sulla piattaforma Omaze e donate. Vi aspettiamo.